Mi presento, mi chiamo Di Magli e Silvia della 4a D dell'Istituto Comprensivo Francesco Prudenzano di Manduria e insieme a Albano Emilio della 2a D, Capogrosso Gianvito della 4a E, Distratis Lorenzo della 4a E, Pastoreglia Medeo Enrico della 4a E e con la supervisione di Andrea Guerriere e Florenzo Di Magli abbiamo inventato Ciclo Rolando per il concorso gioco per gioco all'interno del laboratorio giocando con i re della nostra scuola. Il tabellone da gioca è formato da un percorso di 82 caselle. Nel percorso sono presenti 7 caselle contrassegnate con il simbolo Y 12 caselle contrassegnate con il simbolo O 9 caselle con il simbolo X Ogni giocatore ha una plancia di gioco personale ed un segnalino marce da utilizzare su di essa A completare il set del gioco ci sono 100 bigliettini punti esperienza Y 100 bigliettini punti esperienza O 100 bigliettini punti esperienza X 100 bigliettini sprint un dado a 6 facce 12 caselle terreno difficile il gioco è pensato per un minimo di 2 ed un massimo di 6 giocatori e per la durata massima di 2 ore Il percorso è stato ispirato dal sistema ambientale e culturale SAC Terra d'Arneo e Costa dei Ginepri che comprende i comuni di Nardò, Copertino, Leverano, Veglie, Carmiano, Salice-Salentino, Guagnano, Campi-Salentina, Arnesano, Galatina, Galatone, Porto Cesario, Avetrana e Manduria Abbiamo con Google Map creato un percorso che unisca questi comuni e lo abbiamo riportato sul tappeto per gioco di ruolo con un pennarello lavabile Con diverse prove abbiamo calcolato il numero di caselle ideali 82 In questo percorso successivamente abbiamo aggiunto le lettere O, Y, X gli attrattori primari, gli attrattori sapere e sapori e gli attrattori personaggi illustri del SAC La nostra bicicross ha 3 corone e 6 pignoni Per mantenere sulla bici sempre un buon ritmo e buona regola fare circa 80 pedalate al minuto Nel progettare la plancia del giocatore abbiamo simulato dei cambi che spostano la catena su corone e pignoni per simulare questo ritmo